Le piccole e medie imprese che operano sui mercati internazionali sono complessivamente 188.709, un numero che non ha eguali in nessun altro paese europeo, con un valore dell'esportazione di 75,4 miliardi di euro. Ha aumentato del 3,3% in più rispetto al 2013 e una bilancia commerciale inattivo per 12,6 milioni. Inoltre, le piccole e medie imprese italiane sono solide. La crisi degli ultimi anni, infatti, le ha spinte a ricapitalizzarsi, aumentando il loro patrimonio in media del 30%. Le piccole e medie imprese italiane rappresentano una percentuale elevatissima del numero di imprese in Italia, sono più di 3,8 milioni di imprese di piccole dimensioni, e eccellono in diversi settori industriali, principalmente tutti quelli basati sulla tecnologia, sull'innovazione, sui macchinari, robotica, derivanti dall'esperienza di centri di ricerca e di innovazione a livello nazionale, e in tutti i settori relativi all'eccellenza manufatturiera, anche in settori più tradizionali, dove la creatività e l'esperienza artigianale italiana, nei settori del design, della moda, sono note a livello internazionale.